Ah, oppe Vedi lo sto arrendendo Allora se non sbaglio era da questa parte Certo ragazzi Io sono Raffaele e oggi siamo tornati su Tee Forest Oggi ragazzi stavo andando Come ho detto lo scorso episodio andremo alla ricerca del cancello Di metallo Si chiama così Allora Però ragazzi c'è un problema Io non vi ricordo bene qual era la strada E certo Era il secondo episodio Non mi posso più ricordare niente Siamo arrivati se non sbaglio all'epitodio 11 o 12 Non mi ricordo Comunque allora C'è allora Vorrei capire come fa Terrapassa lo sto dicendo Forse Sì me lo ricordo Si ragazzi era qui Si me lo sono ricordato Però non so se c'ho abbastanza materiale Se non sbaglio qui c'era C'era una bombola C'era l'ossigeno Comunque allora Eccola Si è bugato il personaggio Ok eccoci qui Siamo tornati al nero cancello Come si apriva? Come si apriva? Non mi ricordo più come si apriva Che roba c'è proprio come un pazzo non ho scappato via Comunque c'è Che torna trova c'è Avete visto il mio inventario? C'è Voi mi state chiedendo Perché tutta sta roba è nell'inventario? Perché mi è successo sto bug? Scherzo Ho raccolto tantissima roba Comunque Metto un'altra queste cose qui Sapete una cosa? Io potrei farmi anche una base qui Però il problema è che Poi quando devo tagliare legna Mi ci vuole un casino da portarla qui Che poi passare il mezzo al mare È impossibile Guardate quanta roba ho preso Mi piace Posso costruire tutto quello che voglio Ragazzi Vedete anche voi Mi ci dirà qualcosa qui Magari potete lasciare qualche molto O potete lasciare Cioè mettere qualche molto qui sopra Ho trovato anche la katana Vedete lì? C'è la katana Vediamo se è cambiato qualcosa L'ultima volta che sono stato qui dentro Porca puttana Mi sono preso un colpo Non mi ricordo Questa roba Vediamo a vedere Mi sa che qualcosa è cambiato Perché non c'era il tosto rosso Ah sì mi ricordo che c'era Questa roba No niente Non è cambiato niente Tutto come l'avevo lasciato Tutto quanto Tutto come l'avevo lasciato Corpi carbonizzati Tutto Quando come l'avevo lasciato Corpi carbonizzati Bibbie Tutto quanto Poi croce ovviamente Tutto come l'avevo lasciato Non è cambiato proprio niente E tra l'altro E tra l'altro c'è orario che ha visto una cosa Ma ste bi Ok non lo pronuncio più bibbia Ce l'avevi stipulata Queste bibbie qui Da dove caspita stanno Ma chi è che lancia le bibbie? Da dove caspita vengono? Non sono bibbie Ragazzi non ci sto comendo più niente Ah già qui c'era un boss Ma che devo farlo ora? Ma sta bozzando la prima c'era oppure non c'era? Ciao zio Non mi fa prendere colpi ok? Ciao zio Non è una bella c'era Muori merda Non mi fai più paura ormai Dio ci vediamo Stronzo No 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 C'è se sono stupido No quella lì era non è molto Sì suca Come cazzo è caduto? Ciao zio Posso mettere le bombe? Posso mettere le bombe sul suo corpo? Per farlo esplodere? Cosa succede? No io ho paura a metterle Magari esce qualcuno dal suo corpo Ma ci provo Guarda Ragazzi è finito Ok ragazzi per questo episodio mi fermo qui Nel prossimo episodio andremo alla ricerca della voragine Io spero che questo video sia piaciuto Noi ci vediamo nel prossimo video Ad esploso Nel prossimo episodio Grazie 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 Grazie